Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo episodio di Come uscire dall'ILO-L Oggi ho preso Nami Ho preso Nami perchè sono andato a support Allora, 2-3, ok Abbiamo un team Un team top Contro un Garen Un Garen che tra l'altro è main Garen Già dal nome si chiama Warlord Garen E ne ha tipo 135 vinto Cioè 135 con lui Allora, volevo prendere Blitzcrank sinceramente Però ho visto che Ho visto che comunque Loro hanno sia Volibir Che Garen e Lissandra Vabbè, Lissandra ok È buona da grabare Lissandra è buona da grabare It's in my flesh Emozioni subito La dovevo aspettarmene in effetti Lissandra sarebbe stata buona da grabare Ma Volibir e Garen no Quindi ho preso di prendere Nami Così da fare un po' di peeling A Lucian E anche a Yasuo Team top Davvero non so come Possa Come possa vincere contro Garen Perché Potrebbe raper ricordare all'inizio Però boh 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 Non è che sia molto Molto Come dire Felicioso Sono attualmente a Platino 3 a 0 punti E penso che se perdo questa Retrocedo di nuovo Quindi io spero Spero Dio di non dover perderla Davvero Attualmente sono in due Chi e con Yasuo Che però Non lo so Non ci Non ci si può sentire Perché la La chat stamattina è buggata Non faceva vedere neanche la lista Mi ha dovuto invitarlo tramite Eh Ah vabbè Non posso spiegarlo Comunque l'ambito è molto strano Allora Questi due Se lui non si fa grabare E io neanche Direi che Io devo pocarlo Perché posso Perché Questo blitzk Secondo me non sta neanche giocare Perché non sta neanche pushando Per avere il due prima Quindi buono così In questo inizio già a poccare Dei lazzetti Devo farmi prendere Devo farmi prendere Ho un po' di paura Perché Ho un po' di paura Perché Ok Ok ora stanno al due È un problema Sto dicendo che ho un po' di paura Perché dovrei poccare In teoria Con Putandomi la E addosso Ok Ah non mi è tornato indietro Peccato Strano però Si vede che è andata troppo indietro Dovrei poccare così Però con blitzkrat Non è troppo facile farlo Perché appunto Basta un passo falso E potrebbe benissimo grabarmi Quindi devo stare abbastanza attento Però Finché ho Finché ho detto il minion Dovrei stare al sicuro Questo non avevo fatto Per esempio Eh devo stare bello attento Un po' rompi coglioni Il blitzk Però finché sto oltre il minion Non dovrei avere troppi problemi Se si avvicina Li faccio la cua addosso Bravo Bravo il mio grimaid Mi regala sempre emozioni E io da buono Da buono e bravo Mi faccio carriare Per qua Stiamo giocando una lane Attento a quello che fai Ok Dobbiamo Dobbiamo aver dato Un danno abbastanza Ecco Sono morto Non sono morto Però ho dovuto usare l'exhaust No L'ho ucciso io Sorry Non volevo ucciderlo io Mi sa che è partita l'autovatta Volevo solo dargli Ah Questo è bad Volevo solo dargli la La E Invece Ti ho dato l'autovatta Questo è bad Questo è bad Perché Una kill a Lucian Sarebbe stata grande Grossa Io ho dovuto solo usare l'exhaust Allora non ho tenuto il conto All'esamore perché La situazione era abbastanza tesa Quindi non ho visto Però Anche se mi ha grabato Abbiamo risolto la situazione A vantaggio nostro Perché LOL Perché ho Ma ho l'autovatta cattiva No No Allora che cazzo vuole No Sto lo sei sempre bravo Comunque A parte questi Tipo lì Sparo mi ha sbagliato Allora io ora Recollo Recollo Vediamo cosa posso prendere Se non sboglio 500 300 Potrei già prendere la sidestone Piano loro come jungler Volivere Mi sa che farò così Volevo prendere No 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 Meglio così Ok ok Volivere Potrebbe essere un problema Ad mancare Però visto che c'è il Cloud Drake Dubito che si sposti subito Bot Per tentare di prenderlo Quindi Meglio Evolverci questo Che comunque Da un po' di appi Un po' di managene Comunque mi servono i gold Degli aso pensi che tu sia No E' davvero forte amico Ucidete sto voliv Bravo WP WP Ora visto che abbiamo Pressure in bot Io La pink La piazzerò qua Stai attento tu Si ha preso la Ok si ha preso la Pizzarete a dire Stiamo attenti Benissimo Non ho voluto usare la cup Perché tanto Anche se l'avessi presa A dubbio che avremmo fatto qualcosa Ora Blixxr non ha la Blixxr non ha la cupra Almeno altri 8 secondi Se non sbaglio Ora dovrebbe averciare di nuovo Questa Jinx Spocca molto Per carità Fa bene Ora lo sciacquo un attimo Perché non voglio che Vorrei farmi grabbare Non serviva Che danni la torre Non serviva quel flash Forse si Vabbè comunque si Abbiamo preso una kick Chi l'ha presa Tu sia un perfetto 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 Ho fatto una bella Ciao Boto Jinxxr però Continua a scurarsi La bastarda Però di farm Sta andando parecchio indietro Quindi bene così Ora io Voglio Tentare di Voglio far tentare un roaming E gancare Questo bastardo Vediamo se ce la faccio Però non lo so Perché è troppo pushato Ok Usato il flash Bellissimo Peccato che ha Affiliato il tornado Perché se Se prendevo il tornado Concate 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 Per ora abbiamo la pink Clicking Siamo posto Timo non se la sta comandone Troppo male A dire la verità Cioè adesso è morto Perché ha subito una gate Quindi va bene Luzione Aspettami perché Blisky potrebbe essere Inaguato Ok Oh mio dio Oh mio dio Meno male che sto Blisky in bed Ma meno male Ma lì sarebbe stata un bel problema Non ti azzardare sai Ah si è azzardato Eh purtroppo James ha troppo tappato Spesso Adesso l'ultimo Lui non ce l'hanno Quindi dovremmo Forse approfittarne No ci sono troppi in mino Per ora Vediamo se riesco Cazzo L'AV doppio Ho sbagliato My bad Pensavo di Riprenderlo con quel Con quel Direction Directioning Avaltami in palla Sarà che anche mattina Presta Però buono Abbiamo fatto il 6 Prima di loro E questo ci ha permesso Deppilarlo Potevamo far double kill Potevamo anche Sarare il suo blitz No vabbè My bad Però boh Tenere l'exo Secondo me è meglio È meglio di una kill in più Non si sa mai Chi possa arrivare Ci botte Perché magari Ci arrivano Oliber Qua la fai Usciana Non più da me Possibile la torre Potrei tornare midi In effetti Sto piedissandra Non ha la U Cioè non ha la Come si dice Sono le flash Andiamo via Andiamo via Ok Sono tutti top Oh lol Ah peccato Progarmo flash Questo sia worth Progarmo a livello 7 Quello è a livello 7 Giusto Non so se mi salvo Parca troia Ho sbagliato Che culo blitz Ragazzi Che culo Che culo Blitz ha avuto Un culo Della mamma Bastardo Ha avuto Baracchio culo Oh vabbè Vabbè Fa niente Dai Dai aia Ho avuto Tanto culo Io non ho voluto Dare a quell'auto Attac Perché volevo Darmi la kill Comunque si Vabbè Lui si è un 3-0 Allora Non dobbiamo Prolungare troppo il game Perché hanno Jinx E Jinx Anche se fa cacare Comunque i danni Lo stesso li ha Anche se questo Ha dei pickings Non so perché Ok Ho preso ora L'ulti Ma non ce la facciamo O forse si Perfetto L'ulti è servita Praticamente a zonare Cioè questo qua Adesso fa dei danni Incredibili Davvero incredibili Ed è bene Abusare Oh volevo Romare mid Ma Ritorno Ok Na mi ragazzi Mi piace davvero tanto Come support Anche divertente Da giocare Sinceramente E anche abbastanza divertente Poi da un port A un sacco di utili E sia aggressivo Che difensivo Cura Ma mi fa veramente tutto Devi solo avere un po' di mira A utilizzare bene la Q Ora io vado mid Mi sa che mi è stato a regalo Cazzo Ma non cade Ok Vabbè Stavolta l'auto attack L'ho dato Cioè sti cazzi Non posso rischiare Ogni volta Non posso ogni volta Rischiare Che Non ho capito Però vabbè Ancora Eh vabbè ragazzi Io sto facendo KS Ma che ci posso fare Cioè io curo Se poi con la cura Rimbalza e kill Non ci posso far nulla Non l'ho capito Perché lo stiamo Sto fermo con un ceppo Magari stava aggando Vabbè pazienza Non è troppo un problema Alla fine Panic pink Guarda Timo che fa Da world viviente Ok Non ce l'ho la master Il tsunami No non ce l'ho la master Il tsunami Torniamo indietro Scar Cooldown E locket adesso 1 e 1 e 2 Assolutamente questo Al 9 devo ricordarmi Di cambiarlo Nel super lance Perché mi dimentico Di torre medico Purtroppo cade Vabbè Non ci scopo a niente Nella botte c'è farm Però la russa Non lascio un attimo Da solo Tornando Vorrebbe essere in grado Di farsi uno vivo Infatti Infatti Non ha tipo neanche Nessun problema Cioè non si mette a problema Potrei Provotare l'età off Però per ora Rimango assieme al gaso Sono attenti a blitz Ok Pushtimo Oh Possiamo andare giù Allora Possiamo così Guarda un po' Tutto Qua E' una pink Eh non posso toglierla Non posso toglierla Perché ha blitz È là Ora torniamo Allora Allora Vado sotto i livelli E non mi va la cosa Ok Ok Sto parlando qua Mettiamo una ward In questo punto In modo tale di Così vedo se La loro jungle È completamente wardata Volibir è top Ok Timo probabilmente muore Ma vabbè Si sa che è preparata la causa Qua In verità potremmo anche Daivarli Ho sbagliato Però forse Cazzo Minchia Ma sto blitz Can che ha un Cool Questo blitz Can ha troppo Cool Però my bad Perché non ho Non ho visto l'issana Dovevo andare Mone subito Poi ho usato Molti Non ho detto My bad My bad My bad Vabbè Almeno ho La ages Ok Devo ricordarmi Di prendere questa Ho sbagliato Ma blitz Comunca c'ha un Cool Che non so neanche lui C'è tipo La terza volta Che se ne va via Con 10 HP Bastardo Io dico che dobbiamo Iniziare a chiuderla In fretta Lo gli aso fiddato Lo siamo pure Timo Abbiamo 3 Che non è troppo più grosso Però Timo non sta farmando Ha 75 di farm Vediamo un po' se hanno guardato in giro Il drago tra poco No Ok Arrivare completamente Abbiamo 3 pink qua A botto Cosa sta dicendo Ah Di fare il trappolone Eh ma Timo top No c'è voli Mi risu Tra poco ho di nuovo La ulti Sarà qua voli Infatti Parabius Dovrebbe morire Oh mio dio Che flash Cazzo Che flash Lo sapevo Che non dovevo Seguirlo 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 Devo stare vicino All'usione E basta Però non ho capito Sinceramente Come mi ha Come mi ha killato Lissandra Cosentondo Ah mi ha preso Con il Con la oe Del Mi ha preso Con la oe Della ulti Che sfiga Cazzo Sennò sarebbe Sennò 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 Ho fatto un flash Da galera Cioè Da Da Con bronzo Però volevo salvare Con 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 Lui non ha L'ulti Quindi non so Non penso Possicurare E non penso Posso Lai Varmi Io Secondo Morirà Di nuovo Adesso Oh Sto assolutamente Vicino a lui Comunque Fidato Sto vicino a lui Lo proteggo E nient'altro Bravo Ford Flash Un po' Un po' Pericoloso Mi Pericoloso 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 Comunque Stiamo Un po' Tutti alla Cazzo Sinceramente Dovremmo Iniziare L'altro Dovremmo Inizierà Sera Grupparci Andrano ulte E' buono E' buono Non mi piace Che siamo Così divisi Comunque Non mi piace Che siamo Così divisi Eh lo so Quattro top Vedi qua L'ultimo L'ultimo E' stata Totalmente Inutile Ma è Stato Per Zonarla Ok Almeno Ci siamo Presi Qualcosa Questo Lo se ne Bravo Comunque E' stata Diciamo Inutile Barra No Perché Comunque L'ho Zonata Non Non Ha Potuto Andare Verso Il Zecca Che dà Sia AP A me Che Utility A Lusen Ora Lusen Con la Black Lusen Dovebbe essere Grossa Dovrebbe fare Tanto male Anche a Garen Cioè a Garen Non ha Armor Anche a Sì Anche a Volga Allora potrebbe Potremmo fare Un fight Al Baron Adesso Potremmo fare Un fight Al Baron Quindi Io Wardono Le vicinanze Del Baron Bordo Qui E Falgo World Che Sono Morto Oh L'exosso Lo fa Opposa Cazzo Garen No Flash Non so Cos'è Successo Sinceramente Avevo Garen Alle spalle Avevo Garen Alle spalle Che mi ha Usato Di tutto E comunque Sono riuscito A vivere E Boh Mi sa che lui Stava Spettusciando Spettusciando Must Start Troop Ma Ora Ho cominciato a grupparci Perché questa fight Non mi è piaciuta Io stavo andando solo A guardare in giro E Loro hanno fightato Una pink Devo prendermi Comunque ho fatto usare Fotevo salvarmi da Wolverine Ho freilato la fuga Ho fatto sprecare il flash A guardare in giro A guardare No F Rivaliamolo Perché Così Magari Io stavo Con Stavo guardando Il Baron Possiamo andare a prendere Garen Abbiamo un po' Se ho guardato Che vi siete Gare Dovremmo Così Ci portiamo Giavanti Per il Baron Da World Quando ce ne sono Guardo Conoce ne sono Prostano Arrivando tutti Guardo Troppo P 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 Purtroppo Loro sono veramente grossi Timo diciamocelo Timo non porta nessuna utilità Se devo essere sincero Non possiamo teamfightare con Timo Perché è inutile Non ha danni Timo non ha assolutamente danni Qua abbiamo perso solo noi Qua abbiamo perso solo noi Qua abbiamo perso solo noi Questo è molto brutto Ma perché Ma perché Ma perché Ti fai prendere Come un pollo Non ho mana Non ho mana Ma ho il loket Non ho mana Non ho mana Non ho mana Porca troia Non ho mana Basta Non ho mana Basta Vabbè L'abbiamo fatto lo stesso Ancora l'ho ghilata io Che cazzo Riusciamo a prenderci qualcosa? La torre Io non ho mana Tra poco arrivo a Gare e ne voglio Però la torre la devo prendere E anche io in Inter Ok ho fatto una bella Q Purtroppo Posso farci niente Almeno che ho preso la torre Allora appena metto le zecche le cose cambieranno Mi dispensa che sono morto così tante volte E mi dispiace anche che Teemo comunque non serve Teemo non serva nel nostro Non penso che dai Dai mi muore Non posso andarmi Non si sa mai Arriva Voli Arriva Voli Stavolino Ho dovuto Voli però davvero un cancro Qualcattro Ma non ho mana Ma non ho mana Ma non ho mana Non ci posso fare nulla Non avevo mana Stiamo un po' clown fiestando eh Io non potevo proteggere in nessun caso Due sangue Avevo già stato l'ultimo Flavio mana Paravoxin Questa che Jinx è così behind Cioè 1-12 Jinx Non meno male Non meno male Non male che giù abbiamo stravinto Non meno male Logara inizia ad essere fastidioso eh Molto fastidioso Tanto fastidioso Ma dovremmo e potremmo fare il Baron Io ho 45% CD E this is good Dovremmo fare Il Baron Ora fatemi appiccicare lo Zeke Io però sono veramente alti CD Di dinamino Anche con il 45% eh Ok Loro sono davvero grossi Forse sono davvero davvero grossi C'ho diviso Draghi quanto stiamo Come sono messe tre draghi E dovremmo farlo sto Baron Cioè Dovremmo praticamente prendere prima la top Quindi dovremmo cautare qualcuno Infogare le top Potremmo prendere questa torre per esempio Benissimo Questa torre era gratis Ok Ok ho fatto tutto quello che potevo Davvero c'è più di così Io non potevo fare Ho fatto tutto Ho fatto tutto Timo Timo muore ora È ovvio che Timo muoia ora Magari provo ad andare ad aiutarlo Madonna santo quel voli Davvero davvero cancroso Davvero davvero tanto Ora mi farò Mi farò Mikael In modo tale da Dare più Vai morta le mani In modo tale da Da togliere eventuali CC Che potrebbero mettere su Solusi Antipola L'ulti di Lissandra Lins è morta Lol E ormai esplode Quella la Ormai davvero esplode Io sto sempre appiccicato al meu carry Stiamo un po' splitando troppo Addio Addio Xen È ancora vivo Xen Ok sembrava strano Vediamoci se sta torna Ce la facciamo o no? E sono tutti Era inutile Uvdar Stiamo un po' facendo clan fiesta qua Ups Stiamo in una brutta posizione Porca troia cazzo Non dovevo morire Non dovevo morire Non dovevo morire Non dovevo morire Non ho usato neanche il Mikael Non dovevo Non dovevo Eh vabbè ti sei fatto prendere però Lus Cioè era logico Meno male Meno ti sei cosa Jinx Anche se ormai quella non dà più gold In questo Garon In questo Garon cazzo No non dovevo morire io Cos'è questo dragon? Un altro cloud Che palle Questi potranno pure fare il baron No no non possono fare il baron We shall do the baron Siamo in stallo da un bel po' ormai Siamo in stallo da un bel po' No Voli per focus a me Butto più di puttana E anche... Cosa? Come si dice? Mi schiama Anche... Anche blitzkunk Dicò che è solo me Cioè prende solo me Timo devo fare il baron Si mi è grossa su Timo dove vai? Timo dove vai? Timo dove vai? Timo dove vai? Cosa è quella roba verde che ha? ah la sua W fa proprio l'effetto verde ok possiamo fargli una trappola a questi palubi eh la torre è andata risca anche là sei sicuro? si ok voli birobot quindi assolutamente questa ult è stata buona è stata buona ok dovrebbe morire perfetto lo so che ho flashato ma ma non serviva in effetti in effetti non serviva ma l'ho fatto perchè volevo prendere gins che mi sta attaccando? nessuno non so perchè cosa è stato ho pensato non so panic exhaust benissimo ho ultato tutto perfetto ho preso un'altra Q ggwp ora è stata quando me ggwp oh ragazzi io spero che questo game con un nome vi sia piaciuto è stato abbastanza divertente abbiamo primo diciamo che è stato un po' un handicap per un pochino di tempo però ci siamo ripresi bene boh ci vediamo al prossimo gameplay ciao